Allora abbiamo qui Ricciardello, ci spieghi lei qual è il PD che vorrebbe? Allora io voglio un PD che coinvolga il territorio nelle scelte importanti, per questo abbiamo pensato di lanciare delle consultazioni con gli iscritti su alcuni temi locali di rilevanza come quello delle elezioni del sindaco metropolitano e uno organizzativo come quello delle feste di unità. Un partito dove i soggetti siano formati, formati attraverso la partecipazione ai forum e attraverso iniziative di formazione. Un partito che dialoghi da pari a pari con le istituzioni, quindi con dei momenti di confronto eletti, iscritti, amministratori iscritti, con un dialogo tra le giunte e i gruppi consigliari che sia più forte di quello attuale. E infine un partito che sappia prendere posizioni con chiarezza sui temi di governo nazionale e locale, senza tentennamenti o senza posizioni che dicono tutto il contrario di tutto. Quindi posizioni chiare e linea e indirizzo ben chiaro a chi ci vota e a chi ci supporta. Grazie.